Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Io oggi sono qui per dirvi semplicemente che i pensieri che diffondo mediante il mio canale non sono nient'altro che pensieri positivi, nient'altro che pensieri profondi che dovrebbero essere d'esempio per tutti. Quindi se hai una mamma, sei un papà, hai un figlio di 15 anni, hai un figlio di 18, offri la possibilità di confrontarsi con il mio canale, fallo iscrivere al mio canale perché il mio canale è un esempio, ok? È l'esempio di cosa significa essere belle persone. Non è che se guardi i miei video c'è una bella persona, automaticamente lo diventi, ma tutto quello che io descrivo, l'uomo che prospetto, i valori di cui vi parlo, sono quelli di un mondo e di un uomo migliore, che ha rispetto di se stesso e degli altri, che ha a cuore l'altro, che non è egoista e quindi una persona bella. In questo senso i miei pensieri sono positivi perché vorrebbero un uomo più capace di pensare, meno schiavo dei pregiudizi, dei dogmi e delle tradizioni e più capace di amare. O spiegatemi come può non essere definito come positivo un approccio alla vita che ti permette di essere più riflessivo e più capace di amare. Ovviamente sei anche più libero, ragioni con la tua testa e quindi sei scomodo. In questo mondo i liberi sono mal visti perché vorrebbero che tutti si piegassero al teatrino dominante, al teatrino imperante. Ma cosa c'è di più positivo che poter essere un pochettino più liberi? Autenticità, possibilità di essere spontanei, non dovessi essere schiavi delle convenzioni, capacità di pensare e capacità di amare. Cosa c'è di più positivo di questo? Il mio canale, con i miei pensieri, promuove l'autentica felicità, quella vera. Eh ma tu però parli anche del non senso della vita, il tuo nickname fa riferimento anche a nichilismo, nel senso che sì, non sei un nichilista etico perché comunque parti dal presupposto che la vita non ha senso, però poi bisogna vivere cercando di migliorare il più possibile questo percorso che va da una scena della morte, però dice che la vita non ha senso, dice che non esiste nulla oltre questa vita terrena, dice che la vita è dolore, quindi questo pensiero è negativo, non è negativo. Descrivere un qualcosa che non è per forza rose e fiori non significa essere negativi, ma se il telegiornale dicessero, e anzi lo dicono, incidente gravissimo a molte persone, il telegiornale è negativo. Se uno descrive un fatto, oggi sono morte mille persone perché esplosa una bomba, ah ma com'è negativo il telegiornale, ma è negativo quel fatto lì o il fatto che tu lo dici che è avvenuto quel fatto? Se io dico che la vita non è tutto rose e fiori, non è che lancio pensieri negativi, invito a guardare in faccia la realtà, perché la vita non è tutto rose e fiori. Io non sono qui a dire la vita è una cacca, la vita è una merda, la vita fa schifo, non ha senso nulla, allora in quel caso sì, siamo soli qua giù, non ha senso nulla, chi se ne frega essere buoni o cattivi, andiamo in giro, droghiamo, ci spacchiamo le vetrine, infischiamoci di tutto e di tutti, allora questo sarebbe un pensiero negativo. Io non faccio questo, io dico la vita non ha senso, basta inventarsi che la vita ha un senso, che siamo figli di un Dio, che ci sono in giro gli astri che ci pensano, ci amano e siamo fortunati perché siamo vivi. Basta con questa frottola, non siamo fortunati perché siamo vivi, siamo vivi e basta. Punto, non è una fortuna, non lo è. Questo non significa che se tu non dici essere vivi non è una fortuna, allora sei triste. No, significa che guardi la realtà in faccia e dici cazzo la vita è un accadimento biologico, il fatto di essere vivo comporta anche un bel po' di ghiature, non tutte le puoi sapere, ma la vita è un percorso travagliato e difficile, la vita è anche dolore. Oh che cosa faccio? Mi deprimo e mi butto giù e dico tutto è una merda, tutto fa schifo, tutto non ha senso. No, ci sono, lo dico che la vita è questa cosa qui, non è tutto rose e fiori e cerco di vivere al meglio, intanto che ci sono, da qui alla morte cerco di vivere al meglio. Come? Io sono il più possibile spontaneo, autentico, cazzo, in questo piccolo percorso che è la vita, spesso travagliato, potrò cercare di voler fare quello che è davvero nelle mie corde, non essere schiavo di quello che gli altri si aspettano da me, altrimenti diventa davvero una miseria nella miseria e nel mio agire cercano di esprimere me stesso, cerco di farlo senza fare del male agli altri, anzi cercano di costruire un qualcosa di profondo insieme agli altri per scaldarci davvero il cuore e questo sarà più facile soprattutto con le persone più simili a noi. Ma in generale anche quando ci sono persone molto diverse da noi o anche persone che fanno del male agli altri o anche a noi stessi, noi non siamo vendicativi e distruttivi, quindi io promuovo addirittura la non vendetta, il non odio, il non rancore. Mi spiegate chi è che lancia messaggi più positivi dei miei, ma non positivi perché è bello dire cose positive, no cose positive ma anche di buon senso, senza distaccarsi però dalla realtà. Il mio canale è fantastico, i miei pensieri sono meravigliosamente positivi perché sono anche veri. È ovvio che poi guardare in faccia la realtà ti può anche dare quella dose di inquietudine, di malessere esistenziale, perché non ti metto l'illusione lì. Però poi una volta che riesci ad accettarla hai la possibilità di trovare una via più autentica e più vera. E ovviamente trovare una via autentica e vera non significa eliminare tutti i malesseri, cioè una vita in cui sono eliminati tutti i malesseri non è una vita umana. E quindi io credo che davvero se siete genitori dovreste essere fieri se il vostro figlio guarda il mio canale. Anzi consigliate voi, se siete dei nonni, consigliate il mio canale nipotini. Cioè, poi l'attenzione non è che uno guarda i miei video e deve assorbire passivamente quello che dico. Io offro dei contenuti e poi uno deve elaborarli con la propria testa. Ma sono, imbattersi in un canale come il mio, così come anche imbattersi in una persona come me al di fuori dei video, ma non voglio adesso troppo essere autoelogiativo. Significa avere la possibilità di intraprendere un percorso più sano in un mondo dove invece i pensieri sono sostanzialmente solo malati e distruttivi. È un mondo in cui ci raccontano una felicità di plastica, in cui ci vogliono schiavi e poi ci stupiamo se siamo un po' tanto devastati dentro. Cazzo! Una vita che non ha nulla di umano, profondamente parlando. Una vita in cui non si pensa, una vita in cui l'amore è ciò che mi conviene a me. Tu sei soltanto un oggetto strumentale e poi ci lamentiamo che siamo insoddisfatti e le relazioni sono fallimentari. Amicizie dove solamente torna conto, rapporti che chiamiamo amore dove solo torna conto. Si parla soltanto di successo materiale, di ricchezza, di apparenza. Dove sono le cose serie, le cose vere? Nessuno ve le dice. Allora questa vita per me a prescindere un qualcosa di difficile, di duro, non l'elogio la vita. Ma se vivete in quel modo lì che vi propongono i mass media, questa vita diventa davvero. In quel caso posso dire una vita di merda, un vomito assoluto. Cerchiamo di rendere più colorato, più profondo, più caldo questo esistere con noi stessi e con gli altri. Poi ci mette ognuno la sua storia, le sue difficoltà, le sue sfortune. Non tutti partono dalle stesse condizioni, però al centro ci deve essere la voglia di essere il più possibile aperte di mente, riflessivi, capaci di amare, non giudicanti, cercando di possibile esprimere il proprio potenziale senza dover seguire un teatrino che ti dice come devi vivere. Capendo che oltre a esprimere te stesso e quindi a tirare di fuori quello che c'entra di imparare ad amarti, l'unica cosa che davvero conta a livello altissimo è entrare profondamente dentro gli altri, per costruire dentro di noi e insieme agli altri è una cosa di profondo, tenendoci per mano. E poi possiamo anche dedicarci ai nostri passatempi, possiamo vivere tante cose, la vita è piena di robe. Però al centro questo. Non esiste un canale più positivo del mio. Apparentemente molti pensieri più positivi, apparentemente più positivi dei miei in realtà sono dei pensieri distruttivi, dei pensieri superficiali. Lo spesso dietro a qualcosa di superficiale viene considerato come positivo perché magari è più spensierato, ma poi dietro nasconde il niente. Io magari posso sembrare una persona che mette al centro anche comunque il disagio esistenziale, un certo tipo di difficoltà, di mal di vivere, ma poi c'è la ricchezza d'animo e viva la ricchezza d'animo anche con qualche difficoltà, anche con qualche malessere interiore. C'è chi ne avrà poi di più, ma se ci mette al centro la spontaneità, la ricerca di essere il più possibile capaci di amare e di amare gli altri, insieme a quel malessere riuscirai a stare a gara, a convivere meglio anche con quel malessere. Un abbraccio a tutti e commentare e condividete. Se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video, puoi supportarmi abbonandoti al mio canale, cliccando semplicemente sul tasto abbonati che trovi sotto tutti i miei video, scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci. Oppure in alternativa puoi aderire alla mia pagina Patreon. Per farlo è semplicissimo, apri la mia pagina Patreon e scegli se donarmi 1, 2, 5, 10 o 20 euro al mese. Il gruppo Whatsapp dei super uomini e delle super donne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano. Puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti. Grazie a tutti.